Se cercate crediti andate su FIFA Coins Buy, un sito economico veloce e sicuro, trovate in descrizione il link più il codice del 6% di sconto. Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmic e sono qui dopo un botto di tempo a portarvi un pack opening perché come sappiamo ci sono i TOTS, ci sono i Most Consistent, But Never If e ci sono i pacchetti da 100.000 crediti. Ci sono due pacchetti, intanto qui si continua ad aggiornare, due pacchetti da 100.000 crediti, quindi è qualcosa di insano, però sappiamo che insana anche la mia fortuna, però insana al contrario. Quindi noi cercheremo in questo video di trovare almeno un giocatore TOTS, un giocatore blu, un giocatore del cazzo, basta che sia colorato e blu e speriamo appunto nella buona sorte, speriamo che finalmente qualcosa riusciremo a trovare. Come sempre raga mi invita a uscire un bel like all'inizio del video, io sono sicuro che se spariamo un milione di like almeno un giocatore ignorante lo troviamo e comunque scrivetevi nei commenti se voi avete trovato qualcosa. Partiamo subito col primo pacchetto, ok, buttiamo giù giusto e sfreghiamoci le mani, può essere che troviamo felicità o bestemmie. Troviamo Mané, Mané, record breaker, oh mio Dio, oh mio Dio. Di uff, cazzo, se aspettavo magari usciva Yif. Porca troia, alt, devo vedere quanto vale, alt, devo vedere quanto sta, 600.000. Cioè ripagato proprio di brutto, incredibile. Non sono mai stato così fortunato, cioè non ho mai trovato niente di meglio, incredibile, cioè non lo so, magari sto sognando. Beh raga io direi che con questo Mané abbiamo spaccato tutto, abbiamo spaccato tutto, ho trovato il mio giocatore migliore di sempre, cioè quello che vale più di tutti credo. Quindi direi che andiamo sciallissimi su questo secondo pacchetto da 100.000 e se riesco a vendere ovviamente Mané, anzi prima ci farò un video magari tipo uno squad builder e poi non lo so. Poi se riuscirò a venderlo apriremo altri pacchetti proprio ignorantissimi. Comunque andiamo ad aprire il secondo pacchetto da 100.000, speriamo di essere fortunati quantomeno la metà di quanto siamo stati fortunati nel primo pacchetto. Quindi sfreghiamoci ancora le mani che porta bene e troviamo un Fabiansky e un Klein, incredibile, mamma mia due tozzi in un pacchetto, cioè non si può voler di meglio. Oh mio Dio, cioè non so cosa sta succedendo, ma la casetta non è... mi sa che non è più Iro, non so cosa mi sta succedendo, forse è cambiata la situazione, è cambiata. Aspetta voglio vedere quanto sta, vabbè Fabiansky non starà un cazzo, beh 170.000 ci sono ripagati il pacco opening e Klein, beh Klein ci sta di brutto quindi... Ah però non è argento, però 300.000 va HD, cioè potentissimo ragazzi, potentissimo, inviamo tutto al club. E voglio aprire questi pacchetti bronzo, perché magari si può trovare qualcuno buono, quindi in pratica abbiamo trovato un record breaker e due tozzi, cioè tanta roba, non sono mai stato così fortunato, vabbè qui troviamo merda. Proviamo un altro così per sfizio, tanto in credito ormai ne abbiamo un macello. Quindi andiamo con il secondo, vediamo se riusciamo a trovare un giocatore interessante, no? E direi di aprirne anche un paio di quelli argento, proprio così a sfizio perché, sapete, Divala a me mi ispira davvero tantissimo, vorrei provare. Ma non solo, lui, ci sono tantissimi bei giocatori toz argento, anche bronzo non sono male. In questo periodo troviamo Isco, mi aspettavo un altro giocatore argento della serie A argentino, però abbiamo trovato Mariano Isco. E raga, andiamo con l'ultimo alla fine, tanto, vabbè, magari apriamo uno di questi e un oro, però comunque devo dire che stiamo andando alla grande, quindi non mi posso lamentare. Almeno una volta, raga, riesco a chiudere un pack opening felice perché, come voi sapete, quasi non è mai capitato in tutta la mia storia di YouTube. Quindi andiamo, raga, con l'ultimo pacchetto, proprio così a sfizio, ignorante, qui non c'è neanche, penso, limite di pacchetti. Buttiamo giù joysticks, freghiamoci le maniche, questo ormai sarà il mio nuovo metodo per trovare buoni giocatori perché, come avete visto, vabbè, qui non funziona. Però con i pack da 100k funziona di brutto. Quindi, raga, il video finisce qui, tante forme fisiche, quelle se mi interessano. Spero vi sia piaciuto, a me è piaciuto davvero tantissimo perché ci siamo fatti i big monies. Come sempre, raga, vi invito a lasciare un bel like, cioè ci sta per questo pack opening, 400 like ci stanno per forza. E commentatemi facendomi, non so, dicendomi, almeno una volta sono stato sculato che me lo merito. E comunque fatemi sapere cosa avete trovato voi nei vari pacchetti. Iscrivetevi al canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link come sempre li trovate in descrizione. E noi ci vediamo al prossimo video, bella raga!